Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Firenze Scandicci e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A11, rallentamenti in direzione Pisa tra Monte Catini e Lucca Est. Sulla A12, code in uscita alla barriera di Rosignano in direzione Sud. Code a tratti in entrambe le direzioni tra Rosignano e l'allacciamento per l'Aurelia. In direzione Genova, code a tratti tra Viareggio e il Bivio per l'A15. Sulla A15, in direzione Parma, un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto. In direzione La Spezia, un chilometro di coda per traffico intenso tra Aulla e il Bivio per l'A12. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.